Grazie 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 Dietro Roccia Filippo 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 di qua Eccoci qua qui Verso la telecamera Grazie 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 Secondo qui Il basso a sinistra Il basso a sinistra Il basso a sinistra Il basso a sinistra E' una polo Una qui davanti Ecco di qua grazie Grazie Il basso a sinistra Sotto Basso Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Qui a destra Un attimo Qui a sinistra Un attimo Un attimo Un attimo No, no, domani è pronta.